La scuola mia sta in fronte a te sta in fronte a te Greta, cosa hai da dire? Ciao Mankin, non sono buona Ti piace? E questa è una canzone famosa del famoso italiano Pavarotti che è molto famoso allo mondo Sergio dice anche le mie e spero che un giorno Sergio venne con noi in L.A. Grazie